Ci sono state altre nascite, quante? Sì, sicuramente sei, la certezza assoluta no, perché al momento delle nascite non eravamo presenti, però dalle tracce presupponiamo che altre sei, quindi eravamo a 80 o 86 tartaruchini nasciti dal primo nido di Sibiliana, Bellagio Sabugia. E quindi avete contribuito alla realizzazione di questi canali? Infatti è il primo proprio vicino all'isolotto di Bellagio Sabugia, ho scoperto queste tracce, ho avvisato subito WWF, responsabile di qua di Marsala Nicola Napoletano, che è subito venuto, è venuto lì sul posto, abbiamo dato una recensione così per delimitare il posto, abbiamo aspettato l'indomani è venuto un responsabile per la verifica del nido, Gino Galia di Licata, questo signore qua, ha trovato le prime uova, si è coperto, si è fatto il nido proprio, si è ingabbiata. Ora, alcuni giorni fa, si è stata la prima schiusa, prima una, poi 31, poi 40 e passa, una cosa bellissima, emozionante, c'erano tante persone, c'erano pure, diciamo, l'amministrazione comunale di Pietrosina, ho notato qualcuno, è molto bello. Più avanti, a circa 200-300 metri, c'è un altro nido, pure scoperto da me e mio nipotino. Il primo nido sta, a me siamo all'ultimo, l'altro, i 60 giorni previsti scadono il giorno 9, perché il 9 è stato scoperto quell'altro, e il quinta giorno ci sarà l'altro nido, mentre Biscione ancora è fermo, nonostante prima, perché il periodo va dai 50-70 giorni.